Cari ascoltatori, benvenuti ad un nuovo episodio di Radio Fugginio NER. Oggi affrontiamo un tema doloroso che ci riporta la riflessione sui valori, sul rispetto e sulla comunità. Parliamo di un atto di vandalismo molto grave che ha sconvolto il piccolo paese di Monte Cilfone, dove nella notte del 16 agosto una statua della Madonna di Meggiugori è stata distrutta all'interno di un luogo di culto, un gesto che ha scosso profondamente la comunità locale e che ci invita a riflettere su cosa significhi veramente vivere in una comunità. Monte Cilfone, un piccolo centro in provincia di Campobasso, è stato teatro di un evento che ha lasciato molti senza parole, la chiesa di San Giorgio Martire, chiusa dal terremoto del 2018, è stata violata da vandali che hanno distrutto la statua della Madonna di Meggiugori, un simbolo di devozione e spiritualità per i fedeli della zona. Questo atto sacrilego è stato accompagnato da ulteriori atti di vandalismo all'interno dell'edificio. Oggetti e arredi sacri sono stati gettati a terra e sono stati rubati anche alcuni spiccioli destinati alle offerte. Ma cosa spinge qualcuno ad essere, a compiere un gesto così violento in un luogo sacro? È una domanda che molti si pongono, ma a chi può rispondere davvero a questa domanda? Pochi riescono a dare una risposta. Don Franco Pezzotta, il parroco di Monte Cilfone, ha espresso tutto il suo dolore e la sua amarezza per quanto accaduto. In un'intervista ai microfoni del TGR Molise ha dichiarato «Non me la sento di dire il perché lo abbiano fatto, ma fa davvero male». Le parole di Don Franco sono il riflesso di una comunità ferita che si interroga su come sia possibile che un luogo di culto, simbolo di pace e rifugio spirituale per molti sia stato così brutalmente profanato. Don Franco, che conosce bene la sua comunità, ha voluto chiarire un punto importante. Contrariamente a ciò che qualcuno potrebbe pensare, ha affermato con convinzione che responsabili non sono i ragazzi di origine marocchina presenti nel Paese. Sono quattro o cinque soggetti del Paese, ha detto. Questo non è solo un dettaglio, ma una precisazione che evita di alimentare tensioni etniche o pregiudizi che potrebbero facilmente emergere in una situazione così delicata, anche se noi daremmo per scontato che non ci dovrebbe essere bisogno che chiunque un parroco dica queste parole dovrebbe essere scontato, non dovrebbero esserci dei pregiudizi. Eppure, spesso è così anche all'interno della comunità cattolica, che spesso va a braccetto con quella destra estrema che questi pregiudizi li alimenta ogni giorno. Le parole del parroco sono un richiamo all'assunzione di responsabilità. Qualcuno deve parlare, non possiamo vivere in questo stato, ha dichiarato con fermezza. La sua richiesta che non si ferma qui, Don Franco ha lanciato un appello alle autorità amministrative e alla polizia locale affinché intervengano con provvedimenti seri. L'obiettivo è chiaro, riportare Monte Cilfone ad essere un'isola felice, un luogo dove la convivenza civile e il rispetto reciproco possano tornare ad essere la norma, piuttosto che l'eccezione. Questa vicenda solleva interrogativi profondi sullo stato della nostra società, anche nelle piccole comunità che spesso immaginiamo come rifugi sicuri, lontani dalle turbulenze delle grandi città. Ma cosa succede quando questi rifugi vengono violati? Cosa significa quando un atto di vandalismo non colpisce solo un edificio, ma un simbolo di fede e di unità per un'intera comunità, o almeno gran parte di essa? In un mondo in cui la polarizzazione sociale sembra crescere, episodi come questo ci ricordano quanto sia fragile il tessuto sociale e quanto sia necessario lavorare per preservarlo. La comunità di Monte Cilfone, come tante altre, deve ora affrontare non solo la rabbia e la tristezza per ciò che è stato distrutto, ma anche il compito di ricostruire, non solo in senso materiale, ma anche spirituale e morale. Il gesto di distruggere una statua della Madonna di Meggiugori non è solo un atto di vandalismo, è un attacco alla fede, alla cultura, alla storia di una comunità. La Madonna di Meggiugori è un simbolo forte per molti credenti, un simbolo di speranza, di preghiera e di intercessione. Scusate, però volevo dire, non dimentichiamo che non è riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa come un fenomeno vero, le apparizioni della Madonna di Meggiugori, questo bisogna sempre ricordarlo. Ma distruggere la sua statua, la statua della Madonna, è un tentativo di spezzare qualcosa di più grande, qualcosa che trascende il semplice oggetto fisico. Eppure è in momenti come questi che la vera forza della fede e della comunità possono emergere. Come reagire ad un atto così devastante? Don Franco Pezzotta ci offre una via, la solidarietà, la responsabilità e il dialogo. Invita le persone e l'autorità ad intervenire, i cittadini a non chiudersi nel silenzio, a non lasciare che la paura o l'indifferenza prevalgano. È un appello a tutta la comunità finché si stringa attorno ai propri valori, perché è solo attraverso l'unità e la collaborazione che Monte Cilfone potrà ritrovare la serenità perduta. L'episodio di Monte Cilfone ci invita a riflettere su cosa significa oggi vivere in una comunità, su come rispetto per i luoghi sacri e per i simboli religiosi di qualsiasi religione essi siano. Sono un aspetto fondamentale per mantenere viva una società coesa. La distruzione di una statua è un atto che ferisce chiunque, ma che può anche diventare un'occasione per riscoprire il valore del rispetto reciproco e della convivenza pacifica. E allora, mentre ci avviamo alla conclusione di questo episodio, lasciamoci ispirare dalle parole di Don Franco. Qualcuno deve parlare. Non possiamo vivere in questo stato. È un richiamo non solo per la comunità di Monte Cilfone, ma per tutti noi. Un invito a non restare mai indifferenti, a prendere posizione contro ciò che minaccia i nostri valori o le nostre comunità a lavorare insieme per costruire una società migliore. E soprattutto, credo che il parroco dica che qualcuno deve parlare perché sicuramente in una comunità così piccola qualcuno sa chi è stato, qualcuno sa perché, che qualcuno sa davvero cosa è successo. È difficile che nessuno sappia. Allora, se qualcuno sa qualcosa, parli, perché è giusto che chiunque abbia commesso un atto di vandalismo così grave paghi ciò che, secondo le leggi italiane, deve pagare. Dunque, non restate indifferenti. Vi ringraziamo per averci seguito e in questa riflessione continuate a rimanere sintonizzati su Radio Puggino NER per altri approfondimenti e storie che ci aiutano a comprendere meglio il mondo in cui viviamo. Al prossimo episodio di Radio Puggino NER.